La scuola è importante per un altro giocatore, perché è il cattorello della squadra, è importante anche dentro il giocatore. Però credo che una squadra non dipende da un solo giocatore, sicuramente come ho detto è importante per noi, ma dobbiamo pensare a quelli che sono rimasti qui e a quelli che vogliono giocare in Trentino.